Stiamo trasmettendo ora la musica di Marco Domeniconi. Marco Domeniconi. Questa è la musica di Marco Domeniconi. La musica di Marco Domeniconi. Oggi in console, Marco Domeniconi vi accompagna alla scoperta di suoni e ritmi raramente proposti altrove. Grazie a tutti. Ogni mattina un ospite di rilievo. Con noi oggi Marco Domeniconi.